Rosario Amaru, numerosi incontri, tavoli, scioperi, incontri al MIS in merito alla riconversione della raffineria di Gela in Green Refinery, però al momento attuale non accade nulla e giustamente ancora una volta i lavoratori dell'indotto protestano. Qual è la posizione di Convindustria? Come sta seguendo questa vicenda? Convindustria ha una posizione chiaramente pro territorio perché in realtà quello che sta succedendo è un totale cambiamento e in ogni cambiamento che avviene in un territorio è chiaro che c'è una sorta di resistenza. In questo cambiamento tutti dobbiamo iniziare a ragionare in maniera diversa, il mercato è cambiato, il mercato non è più locale ma è globale, dobbiamo iniziare a vedere altri mercati, a esplorare altri mercati, così come molte aziende dell'indotto hanno già fatto, altre sono indietro. Stiamo cercando di creare un consorzio tra imprese per aggredire mercati nazionali e internazionali. Convindustria si muove più che altro a cercare opportunità altrove e supportare questo territorio per quello che ci sarà con la Green Refinery. Però se lei dice che bisogna lavorare per il territorio, dunque pro territorio, lei chiedo per quale motivo le imprese vanno via? Quale sono le imprese che vanno via? Alcune sono andate via da Gela, non trovando commesse di lavoro. Che le imprese vadano via fa parte della natura delle imprese, le imprese vanno via perché cercano altri mercati e quindi la possibilità che l'impresa vada via sta nella natura dell'impresa. Ma secondo lei il protocollo firmato il 6 novembre del 2014, come dice qualcuno, è una scatola vuota? No, il protocollo firmato è uno strumento attraverso il quale noi dobbiamo affrontare questo momento di grande crisi. E i cantieri a Gela quando partono? I cantieri dobbiamo chiederle a Deni. Non so io adesso quando dobbiamo partire, ci sono delle autorizzazioni che attendiamo all'arrivo di queste autorizzazioni. Io ho certezza per quello che sono state comunicate da Eni, che Eni è pronta per poter procedere appena arrivano le autorizzazioni. Più ottimista che realista? Io sono sempre ottimista. Noi abbiamo questa caratteristica di essere estremamente ottimisti, ma l'ottimismo serve a superare gli ostacoli che la vita ci presenta. E questo di Gela è un ostacolo molto importante. Se facciamo sistema tutti insieme io sono sicuro di poterlo superare. E i lavoratori che protestano che diciamo? I lavori che protestano noi siamo accanto a loro, perché se noi stiamo cercando altri mercati, anche come imprese, perché vogliamo portare i lavoratori a lavorare chiaramente in altri siti. Abbandoniamo il concetto di lavorare a Gela, andare a pranzo a casa. Questo è un fatto che era legato alla raffineria, era un fatto estremamente positivo. Dobbiamo anche dire che il mercato ormai è cambiato. Noi abbiamo, personalmente abbiamo diversi cantieri fuori, il nostro personale lo abbiamo mandato in trasferta anche all'estero. Quindi noi abbiamo questa opportunità e che le altre imprese colgono queste opportunità dell'estero e cercare dell'estero fuori comunque dal compresorio gelese e trovare appunto nuove opportunità per l'impresa e per i lavoratori.